secondo me termoli merita una persona che innanzitutto ama il proprio paese e che quindi al di fuori di qualsiasi partito ha intenzione di fare cose buone per la città magari puntandoli più sul turismo con un programma estivo più ampio più affollato gli eventi e soprattutto merita una persona che ha passione per il proprio lavoro che fa aiutando i cittadini termolesi